Per quanto possono valere le impressioni, io ritengo che l'associazione Mio Trammite ha espresso tutte le ragioni per le quali non ci sono le condizioni che giustifichino la soppressione dell'orsa. C'è una proposta da parte dell'associazione LAV per il suo trasferimento all'estero in un luogo nel quale ragionevolmente può continuare a vivere. Domani mattina ritengo che saranno pubblicate le ordinanze del Consiglio di Stato dalle quali sapremo tutti l'esito degli appelli.